Non si ferma l'escalation di suicidi in carcere nella drammatica classifica stilata dal dossier Antigone emerge come le realtà carcerarie di Torino sia tra quelle a livello nazionale con più casi. La città di Casale Monferrato nota per le migliaia di morti provocate dall'Eternit si prepara a rendere omaggio alle vittime del mesotelioma. La giornata mondiale cade ogni anno il 28 aprile coinvolti nei numerosi momenti di ricordo e di sensibilizzazione sull'argomento anche i giovani. Si chiama I volti della legalità, il progetto dedicato a disagio giovanile che vede protagonisti chi soprattutto tra le forze dell'ordine si occupa giornalmente di questi fenomeni. Nel primo step i seminari per i docenti sono stati organizzati all'Istituto Vinci di Alessandria con la partecipazione attiva della prefettura. Al via la fase di progettazione del casello di predose della bretella delle A26 che congiungerà il territorio della Val d'Orba con la Quese. Buongiorno e benvenuti al nostro telegiornale. Nodo alla gola è il titolo del rapporto di Antigone sulle carceri italiane. Sono già 29 i suicidi nel 2024. L'ultimo della lunga e tragica sequenza è stato quello di un giovane di 32 anni. Era finito in prigione per un furto in cima alla lista delle carceri dove accadono più suicidi. Anche Torino. Non si fa in tempo a dare i numeri dei suicidi in carcere che già bisogna aggiornare. Il triste pallottoliere. L'ultimo in ordine di tempo un giovane asiatico. Non per niente infatti il rapporto di Antigone. L'associazione che da anni visita le carceri italiane si intitola Nodo alla gola che è quello che viene dando i tristi dati dei morti nelle case di reclusione italiane. E nella lista i posti più alti ci finisce anche la casa di reclusione di Torino. I rappresentanti di Antigone hanno visitato 99 carceri italiane e la situazione dicono è più che drammatica. Gli istituti dove sono avvenuti il maggior numero di suicidi tra il 2023 e il 2024 sono le case circondariali di Roma, di Terni, di Torino e di Verona. In ognuno dei quattro istituti si sono verificati cinque casi di suicidio. Le carceri sono sempre più affollate e sempre più chiuse all'esterno e questo è uno dei tanti motivi per cui la situazione delle case di reclusione è disperata. Poco personale, agenti sempre sotto organico, personale medico sfruttato al massimo che in alcuni casi è inesistente. Dalle biografie delle persone che si tolgono la vita emergono in molti casi situazioni di grande marginalità. Molte le persone giovani e giovanissime, molte le persone di origine straniera, la maggior parte africane. L'età media di chi si è tolto la vita in un istituto penitenziario nell'ultimo anno e mezzo è di 40 anni. Con cadenza quasi quotidiana nelle carceri alessandrine si registrano episodi di aggressione agli agenti o atti vandalici come l'incendio ai materassi avvenuto al cantiello Gaeta e che per fortuna e prontezza degli agenti di polizia penitenziaria non si è tramutato in qualche cosa di peggio. Sovraffollamento e suicidi in carcere è una situazione denunciata anche dalle camere penali italiane che continuano a chiedere a gran voce anche attraverso lo sciopero che il governo e le forze politiche si occupino di un tema che sembra scomparso dall'agenda dei lavori di tutti, soprattutto ora in campagna elettorale. E si cercano gli spacciatori e chi ha immesso sul mercato le sigarette elettroniche al cui interno è stato trovato il 92% di concentrazione di droga. Il sequestro, il primo in provincia di Alessandria è stato effettuato dai carabinieri di Novi. E' il primo sequestro del genere compiuto in provincia di Alessandria e già preoccupa gli inquirenti, soprattutto per la facilità di commercializzazione. È infatti in fase di indagini il traffico di sigarette elettroniche al cui interno i carabinieri di Novi Ligure hanno trovato una capsula di resina viscosa e oleosa di colore giallo ambrato, un estratto molto concentrato di cannabis con un elevato tenore di principio psicoattivo e quindi con notevole capacità drogante. 11 dispositivi sequestrati, tutti di colore nero e caratterizzati da un'ape dorata stilizzata. Le sigarette sono corredate da nomi fantasiosi accattivanti come Tangi, London Pound Cake, Blueberry, Tiramisu, Los Angeles e Strawberry Shortcake. Ma nonostante la nomenclatura, secondo i militari novesi, si tratta delle vere e proprie bombe droganti. I dispositivi, come è stato spiegato, riscaldano la sostanza stupefacente contenuta e la trasformano in vapore che rispetto alla combustione, ad esempio della marijuana, preserva una maggiore quantità di principio attivo della cannabis e fino a tre volte superiore rispetto a un hashish già potente comunemente usato negli spinelli. In alcuni casi infatti il tenore del principio psicoattivo è risultato superiore al 92% con possibili gravi ripercussioni per la salute. I carabinieri stanno svolgendo indagini per risalire gli spacciatori, considerando anche il fatto che queste sigarette possono essere reperite molto facilmente sul mercato, anche online a prezzi molto bassi con la possibilità di essere vendute a tutti, compresi ragazzi ancora minorenni. Le ECG, come si chiamano in gergo le sigarette elettroniche, dette anche svapo, sono state rinvenute durante la recente operazione antidroga condotta dai carabinieri novesi che ha portato alla denuncia di cinque spacciatori con il recupero di otto etti di hashish suddivisi in 17 panetti. Sarà il giudice Andrea Perelli il 6 maggio a dover decidere sul rinvio a giudizio dei due ex dirigenti della Solvay Stefano Bigini e Andrea Diotto accusati di disastro ambientale colposo. I due, secondo la procura, avrebbero aggravato di fatto una situazione ambientale già sensibile omettendo di fare delle azioni per risanare l'impianto. Si sono costituiti parte civile anche 57 abitanti di Spinetta, il WWF, oltre al Ministero dell'Ambiente, la Regione Piemonte, Lampana, Lega Ambiente, Circolo Vadese, Valle Orba e Stura. I due dirigenti avrebbero, secondo l'accusa, evitato di provvedere al più efficace risanamento della pregressa contaminazione del sito. Avrebbero poi continuato ad inquinare il terreno e le acque di falda. I difensori dei due dirigenti avevano chiesto oltre un mese fa la ricusazione del GUP perché si era già occupato delle discariche ma la Corte d'Appello di Torino l'aveva respinta. L'azienda, in un comunicato, aveva dichiarato di rivolgersi alla Cassazione ma nel frattempo, mentre si aspetta la decisione della Cassazione, comunque il 6 maggio i due ex dirigenti della Solvè dovranno presentarsi in tribunale. La città di Casale Monferrato, nota per le migliaia di morti provocate dall'Eternite, si prepara a rendere omaggio alle vittime del mesotelioma. La giornata mondiale cade ogni anno il 28 aprile, coinvolti nei numerosi momenti di ricordo e di sensibilizzazione sull'argomento anche i giovani. Il servizio. Sono iniziate ieri a Casale Monferrato con la presentazione dei risultati del questionario e le risposte di oltre 3.000 studenti le celebrazioni della giornata mondiale vittime dell'amianto, che cadrà il 28 aprile. Molti gli eventi per ricordare tutti i passi fatti in 40 anni di storia dalla città dell'Eternite, dove sorgeva fino al 1986 lo stabilimento più importante d'Europa. L'argomento è molto sentito dalle nuove generazioni, che all'Istituto Leardi di Casale hanno presentato i risultati di un questionario sul cambiamento del clima. Loro, 3.637 studenti tra i 10 e i 19 anni, sono testimoni del futuro e hanno risposto alle domande pensate da rese scuole, ragionando in termini di amianto e di ambiente, nella consapevolezza che l'inquinamento deriva soprattutto dall'azione dell'uomo e che è necessario voltare pagina, con azioni pubbliche ma anche individuali. Domenica, come da calendario diffuso dalla FEVA, l'Associazione dei Familiari delle Vittime dell'Amianto ricorrerà poi il giorno del ricordo. L'appuntamento sarà alle 11.30 al Parco Eternot, dove l'amministrazione comunale deporrà una corone dei fiori. Lunedì prossimo sono in programma altri due eventi, con sempre protagonisti giovani. Al Mercato Pavia, a partire dalle 9.30, con due presentazioni dei lavori delle scuole, che avevano partecipato nel 2023 al concorso Cavalli, organizzato da FEVA per sensibilizzare sulla salvaguardia dell'ambiente. Rientrano nel progetto Vita Impatto Zero. Alle 18, poi al Circolo Ronzonese, ci sarà lo spettacolo Morti in Progress, a cura di Luca Macciachini, che narra la vicenda del più spietato killer della storia, l'Amianto, e delle oltre 30.000 vittime solo nel Casalese. Il 30 aprile, infine, in comune, alle 9.30, si terrà la premiazione del concorso Vivaio Eternot. Le principali problematiche legate al disagio giovanile sono state al centro di un progetto chiamato I Volti della Legalità, che hanno visto protagonisti chi, soprattutto tra le forze dell'ordine, si occupa giornalmente di questi fenomeni. I seminari sono stati organizzati all'Istituto Vinci di Alessandria, con la partecipazione attiva della Prefettura. Sono stati il cyberbullismo e la legalità in ambito economico-finanziario a concludere il ciclo di incontri organizzati all'Istituto Vinci dall'ambito territoriale di Alessandria, insieme a Prefettura, alle procure minorile di Torino e ordinaria di Alessandria, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, il CISACA e l'ASL. Un corso di formazione rivolto ai docenti, che ha messo al centro le problematiche più scottanti del mondo giovanile, nell'ambito di un progetto chiamato I volti della legalità. Si tratta della prima iniziativa del genere sul territorio per affrontare con chi si occupa giornalmente di questi fenomeni legati alla violenza, bullismo, cyberbullismo, legalità economica ed educazione al rispetto. Dopo la presentazione del progetto, avvenuto nella prima giornata del corso e alla quale avevano partecipato tutti gli attori che hanno preso parte ai volti della legalità, si è entrati nel concreto, analizzando di volta in volta tutti quei processi che purtroppo compongono sempre più spesso le vite degli adolescenti, presi e per lo più persi tra fenomeni che ne possono minare l'interesistenza. Le tematiche soprattutto legate alla violenza, al bullismo e al cyberbullismo in primis stanno infatti assumendo toni allarmistici, soprattutto se si allarga il problema anche all'universo femminile, divenuto ormai al pari dei maschi, protagonista di episodi mai visti in precedenza. Una realtà figlia di un disagio giovanile sempre più allargato, che non può essere sottaciuta e che ha bisogno di esperti per essere capita e analizzata nel profondo, per cercare a livello docente di cogliere i primi segnali di malessere e poter intervenire in maniera corretta, tempestiva ma soprattutto educativa. Il ciclo di incontri si è concluso con Laura Bergonzi, dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Ambito Territoriale di Alessandre Asti, che ha affrontato la problematica relativa alla violenza a scuola e alle sanzioni disciplinari nello statuto degli studenti. Al via la fase di progettazione del casello di Predosa e della bretella della A26 che congiungerà il territorio della Val d'Orba con la Quese. Al tavolo tecnico provinciale un ruolo determinante lo avranno sicuramente Acquiterme e Dovada. Sentiamo Fabrizio Mattana. Le basi per la creazione di un casello della A26 e Predosa erano state gettate lo scorso autunno nel corso di un incontro promosso dalla società Vale Orba Depurazione, organizzato dai comuni dell'Ovadese con fondazione Slala, che si era svolto alla presente del viceministro dell'infrastruttura e trasporti presso il resort Villa Cavolina di Castelletto d'Orba. Il progetto sta avanzando e dal tavolo tecnico della provincia stanno emergendo le prime proposte e soluzioni per la realizzazione del tracciato stradale che collegherà Predosa con la Quese. Infatti proprio il comune di Acquiterme con Ovada, Predosa, Provincia, Fondazione Slala saranno gli attori principali dai quali prendevano il via le mosse per giungere alla progettazione e alla realizzazione dell'opera, per la quale la regione ha messo già a disposizione oltre i 400 mila euro. Il casello di Predosa già da solo aiuterà tutto il nostro territorio a essere meglio collegato alla rete autostradale in una maniera facile e veloce, ma tutta la zona dell'Acquese ne trarrà un ulteriore e grande beneficio nella fase immediatamente successiva, cioè il collegamento di quel casello di Predosa alla variante di Strevi. Quindi quello che la città di Acqui chiede, e non dimentichiamo che la regione ha stanziato l'anno scorso 420 mila euro conferiti alla provincia proprio per la progettazione di questa arteria, un collegamento il più possibile dritto, il più possibile veloce, che sia quindi più funzionale rispetto all'attuale variante di Strevi, che per carità meno male che c'è, ma è tutta curve e sostanzialmente non si riesce a soppassare e si va un po' piano quando c'è traffico. Ecco, con questa nuova arteria di una decina di chilometri, completamente in pianura, la città di Acqui direttamente potrà essere collegata insieme con tutto il suo circondario alla rete autostradale. La proposta che Acqui avanza è anche quella di denominare il nuovo casello come Predosa Acquiterme. Un po' come succede quando si va in Emilia e se uno arriva e incontra sulla A1 il casello di Fidenza, il casello di Fidenza è denominato Fidenza-Salsomaggiore-Terme. Poi da Fidenza-Salsomaggiore ci sono circa 12 chilometri, quindi avremo la stessa identica situazione per Acqui. Questo secondo me è molto importante perché avere il nome della città sulla rete autostradale ed effettivamente avere un collegamento veloce tra la rete autostradale e la città, da punto di vista turistico e da punto di vista di chi ci vuole venire a trovare o magari non ci conosce ma ci incontra, è sicuramente un grande vantaggio. Sarà però Aspi a decidere quale sarà il nome del casello, ha precisato il sindaco di Predosa che ha voluto sottolineare come per la maggior parte dei casi le uscite autostradali portino il nome del comune in cui si trovano. Il primo cittadino del comune della Val d'Orba non è però chiuso al dialogo su questo fronte, convinto dell'importanza del fare squadra per giungere ad un risultato positivo per tutti. Si chiama Master PV ed è un corso post laurea dedicato allo sviluppo territoriale sostenibile e in questo periodo ce n'è un gran bisogno. È la prima volta che un percorso del genere viene proposto al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali dell'Università di Alessandria. Ce ne parla Alessandra Della Capra. Lo scopo è quello di formare professionisti specializzati nell'ideazione, progettazione e realizzazione di interventi per lo sviluppo territoriale sostenibile con le competenze per realizzare progettualità di crescita e miglioramento del territorio e della comunità. Arriva per la prima volta al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali di Alessandria il Master PV, programmazione integrata per lo sviluppo territoriale sostenibile, ideato e realizzato dal Dipartimento stesso di collaborazione con l'Associazione Cultura e Sviluppo di Alessandria. Il corso è stato spiegato dal direttore del Digspess, Giorgio Barberis e dalla direttrice del Master Marta Regalia, avrà importanti ricadute per il territorio alessandrino e prevede, oltre alle lezioni frontali per la descrizione di scenari e trend, attività laboratoriali e la presentazione di casi di studio e momenti dedicati all'ideazione di proposte progettuali in gruppi formati da partecipanti con diversi profili di provenienza. Il Master, ha aggiunto Alessio del Sarto, direttore dell'Associazione Cultura e Sviluppo della Fondazione Social, rappresenta l'occasione, oltre che di alta formazione garantita dal lupo, per costruire una comunità di persone capaci di progettare grandi interventi per un sano sviluppo del nostro territorio. PIVO si terrà nell'anno accademico 2023-2024, in presenza da luglio 2024 a luglio 2025. La sede di svolgimento delle lezioni sarà il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell'Università del Piemonte Orientale. Una parte delle attività si svolgerà anche presso l'Associazione Cultura e Sviluppo in piazza Fabricio D'Andrea. Oltre allo sforzo congiunto di UPO e Associazione Cultura e Sviluppo, il Master è promosso da Comune di Alessandria, Provincia di Alessandria e Confindustria Alessandria, con il contributo dell'offerta formativa seguita da un paio di partner didattici. Sostengono il Master, Fondazione Social, Comune di Alessandria e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Visita di cortesia da parte del Presidente dell'Ente Nazionale Sordi di Alessandria, Franco Marino, del Presidente regionale Serafino Timeo e del Vice Presidente Antonio Iozzo, in tutti i pronti soccorso degli ospedali Alessandrino per controllare che il tablet messo a disposizione da Regione Piemonte in collaborazione con Azienda Zero fosse funzionante e a disposizione appunto delle persone sorde. I rappresentanti dell'Ente sono stati poi a Casale Monferrato, Tortona, Novidiguro, Vada, Quiterme e naturalmente Alessandria. Nel pronto soccorso dell'ospedale infantile di Alessandria il tablet sarà invece attivo a breve. Siamo rimasti piacevolmente colpiti dalla disponibilità degli operatori che ci hanno accolto e che hanno dato la giusta importanza a questo servizio, ha commentato il Presidente Franco Marino. A nome di tutti i sordi Alessandrini non posso far altro che ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per l'attivazione del servizio Comunica Ense Pro a favore dell'abbattimento delle barriere della comunicazione. Torna per la terza volta ad Alessandria il Cammino in Festa, giornata patrocinata dal Comune di Alessandria in programma per il primo maggio nel chiostro di Piazza Santa Maria di Castello dalle 10 alle 20. L'iniziativa è organizzata dall'associazione Il Grande Cammino del Monferrato che festeggia insieme alla città la ricorrenza nazionale con momenti di aggregazione, degustazione e camminate che partiranno appunto dal chiostro e si snoderanno in città oppure per i camminatori più allenati fino a San Salvatore. L'associazione Il Gran Cammino del Monferrato si è costituita nel novembre del 2020 e si occupa di progetti di valorizzazione del territorio attraverso il trekking. Un cammino di 382 chilometri che attraversa oltre 65 comuni del Monferrato è stato infatti tracciato dai volontari dell'associazione e può essere percorso in solitaria o attraverso gli sport preferiti. Il nostro telegiornale termina qua, io vi ringrazio per averci seguito come al solito, subito dopo di noi c'è la pagina sportiva curata da Fabrizio Mattana, la nostra informazione torna questa sera alle 19.30. Grazie, arrivederci. Parliamo di Tamburello. In serie C-Open va forte il Grillano che anche contro la Cerese si è imposto con un netto 2-0. Domenica prossima riflettori puntati sul derby fra Cremolino e Grillano. Si gioca alle 15.30. I ragazzi di Bavazzano sono in attesa del riscatto. In ripresa il Basaluzzo che si è imposto sul Gabbiano per 2-1. Nella serie B a muro invece il Cremolino è ancora al palo. Sembra esserci però una rinascita del Tamburello in Piemonte. Questo grazie all'impegno di persone che a questo sport dedicano la vita, portandolo nelle scuole e diffondendolo tra i più giovani. Guarda, io sto vivendo, posso dire una favola, perché da quando ero piccolo, che avevo 5 anni sempre giocato a Tamburello e adesso ce l'ho, cioè una cosa che è più forte di me, sto andando in giro per le scuole per insegnare il Tamburello che purtroppo che ovada sta morendo e mi dispiace tanto. Io devo dire grazie al Cremolino che ha dato la disponibilità di poter tesserare i ragazzi che ho io per poterli poi fare eventualmente, fare un campionato un altro anno. Qui vediamo tanti giovani, vedo che sono molto interessati. Sì, sono contento perché andando Mario Bavazzano nelle scuole, io e dalle Madre Pie, siamo riusciti a far conoscere il Tamburello. E poi c'è Coppa Claudio che mi ha dato una grossa mano, poi c'è Calderone, Puppo, tutti questi qui che insomma indirettamente o indirettamente mi danno una mano e anche a Gianni Agosto che ha fatto delle belle cose per poter tenere un pochino il Tamburello in auge, diciamo un pochino. Sei molto attivo anche in Liguria? Tanto in Liguria, in Liguria ho creato due società, una a Sestri Ponente, la Centronoto Sestri e una ad Arenzano che è l'Arenzano Atletica. Ma noi vorremmo trasmettere più che la tecnica la passione, perché poi la tecnica i bambini appassionandosi la trovano. Lo sport credo che sia un po' un maestro di vita e poi all'età giovanile così è importante che fanno altri amici e poi lo sport dà delle belle soddisfazioni, dà delle emozioni che nella vita un giovane non troverà più quello che può dargli lo sport e anche come valore perché insegna dei valori a rispettare le regole, tutte quelle cose che sono insite nello sport.